Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Vi devo dire che io qualche estate fa avevo fatto una poop con l'app Tine Master e con Alessio poi vi parleremo in un video. Allora ragazzi, adesso sta per arrivare una poop che ho fatto stamattina con l'app Viva Video e non è che l'ho poopata, ci ho messo un effetto in una scena e la chiamo poop. Quindi ragazzi, spero vi piaccia e raggiungiamo gli iscritti di Alessio, un sacco di like, sto ancora sempre con l'albero, domani lo leviamo, anche il mini presepe e quindi raga spero vi piacerà questa poop. 100 like, ciao!